E' il momento di fare sul serio Salve a tutti ragazzi, sono Lorenzo e benvenuti su questo nuovo video Oggi siamo ritornati su FNAF World Ok ragazzi, l'ultima volta c'eravamo fermati che abbiamo capito che siamo in questo mondo di animatronica Intanto ho la musica sparata a mille nelle cuffie E devo scegliere animatronica, se no scelgo questi Abbiamo aumentato, bellissimo, il nostro Foxy a livello 4 Quindi fatto, intanto metto fatto di nuovo come prima Va bene ok ragazzi, c'eravamo fermati qua Abbiamo scoperto che questo mondo di animatronica si sta distruggendo Si sta distruggendo e noi dobbiamo riuscire a scoprire che è stato E a riuscire a salvare anche il nostro mondo Ok ragazzi, continuiamo Che cosa dovevamo fare che non mi ricordo Allora, intanto dovevo andare di sicuro Ah, andare nella caverna Giustamente, me lo ero scordato Oh, che c'è là sotto? Ragazzi, devo andare Run, 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 run Ok Che musica spettacolare Raga, ma questa musica è stupenda Le musiche di sto gioco sono veramente stupende Comunque Oh mio dio, chi sono questi? Goldmine Svecham Attacca, attacca Uc Attacca, attacca Uc di nuovo Speed the song Eh, vabbè Switch o attacco Switch o Switch o Toxic bite Si Ok Balloons Raga, dobbiamo distruggerli con i palloni Dai Dai, 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 dai Tutti i miei rip Me li ha uccisi, raga Sono morto, raga Sono morto Sono morto Per la prima volta in questo gioco Sono morto Sanamente non ho incontrato nessuno Il boss Boss Mi tolgo pochissimo Space jam Dai che mi togli tanto te Mamma mia Eh, party favors Ok, più quattro Le ho guariti Devo, devo, devo Devo, devo Space jam Eh, speed the song Ok, uc È morto Raga, mi è morto Che è questa roba Ah, sì, ok, va bene Perfetto, questo mi piace Mi piace così Dai, dai, mi piace Dai Dai Sveggiamme, dai Bonny Toi Bonny Mamma mia Quanto li sto togliendo Jumpscare Sei morto, Foxy Sei morto, eh Sei morto, Foxy Guarda Uc Infatti era caso Raga Dobbiamo battere con questo Vai Tossico Vai Jumpscare Vai, vai Jumpscare Vai, vai Sta morendo Sta morendo Dai che sta morendo È morto Raga, è morto Raga È morto Sì Sì Quanto era difficile Sì Sì Una squadra tutta distrutta Però Mamma mia Level up Di quanto Mamma mia Quanti livelli hanno fatto Livello 6 6 6 Tutti 6 E vabbè A parte 2 Il 5 Mi dispiace Phantom Bonnie E Phantom Foxy Raga Che cos'è sto robo Ah Il jump 2 Mamma mia Ma perché Sono così stupido Ok ragazzi Andiamo di qua Che dovrebbe essere Una zona nevosa Oh mio dio Ho preso Il 3 Oh bello Ma questo è un blocco Di quelli Warm Ragazzi No ragazzi Non è warm Questo è un blocco Di quelli di Super Mario Uguale Ha preso l'alide Uguale Fatto Mamma mia Ok Level up Grazie Grande Grande Bonnie Grande Fai proprio Questo che ci fa ancora Rolla Ah ma questi sono Ah oddio Un forziere Quick start party Cheap Quick start party Dawn Fatto Nightmare Oh mio dio Quanto ti voglio Nightmare Soldi Big soldi Di qua ci devo andare Che cazzo sono ste robe Perché me le mettete Jobscare O E non lo so Facciamo un Monkey Monkeys Questa mossa È fortissima Non mi interessa niente È super Fortissima Vai Foxy Foxy è bellissima Questa mossa Proprio Madonna Che hai fatto Mangol Dai Raga Passiamo di nuovo Alla storia principale Perché sono da ore Messo qua A caso Rannacci Devo andare da lui Devo andare da Fatespar No Chi è questo Ah posso comprare Welcome to LOL Beats By Store Mini Reaper Reaper X Reaper Io compro quello piccolo Vediamo Che cosa succede Vediamo a che serve Ragazzi Perché io faccio Questo gameplay Pure per farvi capire A voi come funziona Il gioco Ah È tipo Magari Ad attacca adesso No raga Allora C'entra qualcosa Col combattimento E questo L'avevo capito Però Poi lo vedremo In futuro Il sub tunnel Bisogno Di avvisarti Di avvisarti di una cosa Di qualcosa Quando tu entri All'interno di un oggetto Glicciato Dentro appunto Il sub tunnel È possibile trovare Un altro oggetto Glicciato all'interno Mamma mia Quindi figata Vabbè Vabbè Praticamente C'è sto cavolo Di tunnel Che ci porterà Sotto Un altro tunnel Dopo Quindi ragazzi There may even be more Glitched objects Qui Ci sono È vero Ci sono più oggetti Glitched in questo mondo Che in altre parti Vabbè Ci sta avvertendo Che non dobbiamo Mai andare Più di tre volte Dentro gli oggetti Gliciati Cioè nel senso Che se io entro Dentro un oggetto Gliciato Poi entro Un altro Oggetto Gliciato Sempre all'interno Dell'oggetto Gliciato Lo so Non ci sta decappendo Niente Ma È così È il gioco Praticamente Non è tanto Sicura Sta cosa Ok ragazzi Andiamo avanti Ok ragazzi Devo stare attento Perché a quanto pare L'abbia bloccata Da Sto robo Ci facciamo La festa Di sopra Ok dai Ragazzi Questo è impossibile Monkeys Dai 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 Questo levo un sacco Meglio che lo utilizzo Meglio che lo utilizzo Meglio che lo utilizzo Sperando che non mi uccida Hot cheese Il formaggio pure Soprattutto perché ci scioglie Col formaggio Dovrebbe sciogliersi Giusto Devo usare una mossa Per party favor Vediamo se Non mi aumenta Sì mi aumenta vita Mi aumenta vita Smash jam Vai Mamma mia Quanto li toglie Dai No ragazzi Sono morto Se non mi attacca Sono morto Smash jam Almeno lui Dai Almeno lui è vivo Bene Perfetto Mi ha ucciso Unscrew Hot cheese Raga questi sono più veloci E più forti Toxic bite Unscrew Dai 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 Raga È una cosa È una cosa incredibile Dai forse che ce la faccio ancora Ho vinto Ho vinto E perché ho vinto? Si è buggato raga Ho vinto Raga ho vinto Ho vinto Non facevoci domande Ma andiamo C'è un'ombra Raga Questa è la via per andarmene Giusto? Certo Certo che Mi volete morto Hai capito? Dovevo toccare qua Quando dice la mossa Perché così L'ammazzo Unscrew Dai raga Dai raga Ok raga Sta morendo Sta morendo Per la tossicità Sta morendo Per la tossicità È morto È morto Sì Basta Ragazzi Grazie 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 Oh mio dio Che chip ho trovato È il new challenger A se Golden Freddy Golden Freddy Golden Freddy Ho vinto L'ho eliminato Golden Freddy È spuntata a caso You have a new party member Golden Freddy Che figata Ho spoccato un nuovo personaggio Ho confi Oh puppet Puppet Ok Ho sconfitto un altro boss Adesso posso prendere il personaggio Dai Oddio puppet Vai 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 È morto Sì Perfetto Abbiamo anche puppet Mio dio Puppet Noi siamo passati di qua Oh L'oggetto Glicciato dopo tre ore Me lo fai trovare Ma vaffanbagno L'oggetto Glicciato all'interno L'oggetto Glicciato Oh mio dio Ah ok Sono ritornato Ok qua Vai Eh Ciao Fredzbar Fitzbar Ok Ho preso anche il numero 4 Adesso andiamo di qua Allora You have reached Lily Gear Lake Che non ho capito Che cosa sia Da qui Non so La tua La tua avventura Che piega prenderà Quindi dove ti porterà Vabbè Farti aprire gli occhi Su un altro Oggetto Glicciato Ce ne sono Allora Vabbè Praticamente È l'unico modo Per arrivare Nel luoghi Irraggiungibili Fai attenzione In the water Of Ah Lily Gear Lake Mamma mia Lily Gear Lake Che lago Madò Madò JJ Ciao JJ Ok ragazzi Credo che Aspettate un attimo Ok ragazzi Credo che Questo episodio di Five Five Night Perché dico Five Night Ok ragazzi Credo che Questo episodio di Finaffi World Lo posso concludere qui Se il video vi è piaciuto Lasciate Le commentate Vi invito a Schindlero al canale Vi invito a mettere Mi piace Alla pagina di Facebook E su Instagram E noi ci vediamo Un prossimo video Ciao